In questo video vi mostrerò la vera storia di Pietro Barilla, l'uomo dietro la creazione di una delle più grandi multinazionali del settore alimentare. Quindi preparatevi ad essere ispirati dalla sua determinazione, passione e talento imprenditoriale che lo hanno portato a trasformare una piccola attività familiare in un impero della pasta conosciuto in tutto il mondo. Tutto ha avuto inizio nei primi anni del 1900, in una modesta cucina di Parma. Pietro Barilla proveniva da una famiglia di mugnai e pastai e fin da giovane fu introdotto ai segreti dell'arte di fare la pasta. Lavorando fianco a fianco con la sua famiglia, imparò l'importanza degli ingredienti di alta qualità, della dedizione al lavoro e della costante ricerca dell'eccellenza e anche se non poteva rendersene conto, queste fondamenta sarebbero state cruciali per il suo futuro imprenditoriale. Dopo svariati anni di duro lavoro e apprendistato, Pietro Barilla riuscì a trasformare l'azienda familiare in una piccola impresa di successo locale. La sua pasta diventava sempre più conosciuta all'interno della città, ma questo a Pietro non bastava. La sua infanzia non era sicuramente statagiata, la sua famiglia faceva molta fatica a mandare avanti la piccola impresa aperta dal padre e probabilmente fu anche questo a spingere Pietro a cercare un successo che facesse rumore e che dimostrasse al mondo intero che anche lui ce l'aveva fatta seppur partendo da origini più che umili. Quindi con un coraggio straordinario decise di investire nella modernizzazione della produzione per cercare di conquistare nel modo più veloce possibile il mercato italiano, per poi passare a quello internazionale. Gli investimenti, sia in termini di capitali che di lavoro e sacrifici, permisero a Pietro Barilla di espandersi in modo molto veloce e di aprire più di uno stabilimento in vari paesi dell'Italia, dando lavoro a migliaia di persone. Da molti veniva anche considerato l'imprenditore illuminato, sia per le sue grandissimi doti menageriali che per ciò che riguarda il fattore umano ed il rispetto nei confronti dei numerosissimi dipendenti che lo stavano accompagnando verso il successo. Proprio per questo motivo, parallelamente alla sua grande espansione, creava un fondo solidale per aiutare le persone più in difficoltà e, come se non bastasse, contribuì economicamente alla costruzione di abitazioni per i suoi dipendenti. Nel 1959 la Barilla arriva a produrre 4.000 quintali di pasta al giorno, trovandosi nella posizione di leader indiscussa della produzione di pasta in Italia. La pasta fu importantissima per l'espansione della Barilla, ma non fu l'unico prodotto ad uscire dalle enormi fabbriche dell'azienda. Contemporaneamente, infatti, venivano prodotti anche grissini e fette biscottate, che contribuirono a rendere il marchio sempre più conosciuto ed utilizzato. Nel 1968 iniziava la costruzione dello stabilimento per la produzione della pasta più grande e tecnologicamente avanzato del mondo. Un altro enorme traguardo per Pietro Barilla, che partendo da una piccolissima impresa di paese era finalmente riuscita a guadagnarsi un nome. Le gioie di questo traguardo eccezionale, però, durarono poco meno di tre anni, perché nel 1971 Pietro e suo fratello Gianni, con cui era comproprietario della Barilla, non vanno più d'accordo e soprattutto non hanno le stesse vedute imprenditoriali. Come detto poco fa, Pietro voleva continuare ad ampliare i suoi affari in giro per il mondo, mentre Gianni aveva paura di perdere il successo che erano stati in grado di ottenere con il duro lavoro e di sacrifici, e quindi decise di uscire dall'azienda proponendo a suo fratello l'acquisto delle quote di cui era proprietario. Pietro però non aveva abbastanza soldi per poter affrontare questo impegno economico così dispensioso, e quindi avvenne l'inevitabile. La Barilla viene venduta ad un colosso americano che aveva deciso di rilevarla, diventando ufficialmente un'azienda statunitense, più precisamente entra a far parte della WR Grace. Sembrerebbe essere finita qui la lunga avventura imprenditoriale di Pietro Barilla. La società è ormai nelle mani di una multinazionale americana e sicuramente Pietro non sarebbe più stato in grado di ripartire completamente da zero, però non si scoraggiò e decise di provare a parlare con i signori della WR Grace per provare a riacquistare l'impresa. Dopo dieci anni dalla vendita, seppur dovendo sottostare ad un esborso economico molto elevato, Pietro Barilla riesce a riacquistare la sua azienda, guadagnando anche un'onoreficenza da parte della città di Parma, che lo premiava in quanto era riuscita ad elevare il prestigio della città e a contribuire al miglioramento della vita dei singoli e della comunità. Quindi, dopo una decade che lo vedeva finito, almeno dal punto di vista imprenditoriale, Pietro riuscì a risollevarsi e a continuare per la sua strada ancora più forte di prima. Continuando il suo processo di espansione, riuscì ad avere sotto il suo possesso 27 stabilimenti, di cui due all'estero, che producevano quintali e quintali di prodotti ogni singolo giorno, anche grazie ad un totale di circa 6.000 dipendenti, che diventarono più di 8.000 dopo che la Barilla decise di acquisire la Pavesi. Le sue capacità di adattarsi alle diverse culture e alle preferenze alimentari dei consumatori globali fu un fattore chiave del successo internazionale dell'azienda, che ad oggi produce moltissimi prodotti per la vendita in quasi ogni paese del mondo. Infatti, i prodotti Barilla continuano ad aumentare e diventare sempre più numerosi, facendo crescere di anno in anno il valore economico e simbolico di questa grandissima multinazionale italiana. Oltre che un grande imprenditore, il signor Barilla fu anche un uomo con una forte etica per il lavoro e una profonda dedizione nei confronti della sua famiglia e della sua città. Infatti, finanziò anche molte ristrutturazioni per ciò che riguarda le strutture fondamentali di Parma, dimostrando un forte attaccamento alla sua gente e un grande senso per il rispetto del lavoro. L'avventura imprenditoriale di Pietro Barilla ci insegna l'importanza di perseverare, di avere una visione chiara e di sapere affrontare le sfide con determinazione. La sua storia ispiratrice è un esempio di come la passione, il talento e il duro lavoro possano trasformare un'idea iniziale in un successo globale, capace di scrivere pagine indelebili nella storia di una nazione e del mondo intero. Ti ringrazio personalmente per avermi accompagnato nella storia di questo strepitoso imprenditore e spero che questo video possa esserti stato utile. Ti invito anche ad iscriverti al canale per non perderti i prossimi video, a mettere un mi piace e soprattutto a lasciare un commento qui sotto per farmi sapere le tue opinioni. Se lo farai sarò più che contento di risponderti e fare due chiacchiere con te. Grazie per la visione!